Musica Musica Cari amiche, cari amici di Rossini TV, eccoci qua lunedì sera, c'è capo Obiettivo Salute, siamo nel nostro salotto di Fisioradi Medical Center e questa sera nostro ospite è Francesco Maria Guerrini, fisioterapista, buonasera Francesco. Buonasera Antonio. Francesco sei diventato il responsabile dei fisioterapisti di Fisioradi, grande sensazione, grande responsabilità, grande soddisfazione. Allora innanzitutto è un onore perché comunque dopo soli quattro anni che sono qui mi è stato dato questo ruolo, questo titolo, è una grande responsabilità, io poi sono un perfezionista quindi comunque voglio, voglio fare bene, mi sento ecco al di là della responsabilità che ho nei confronti dell'azienda, nei confronti di Maurizio ma anche nei confronti dei miei colleghi che dovrò aiutare nella loro crescita professionale e anche personale all'interno dell'azienda. Quindi è una bella responsabilità, una bella sfida. Perfetto, considera che è una responsabilità anche in confronto nei tanti pazienti che capitano spesso sotto le vostre sapienti mani che effettivamente grazie a voi si rimettono in piedi Francesco. Perché io ho notato questo, la fisioterapia è una pratica che dovrebbe essere se non quotidiana quasi. Sì, assolutamente. Noi poi proponiamo diversi percorsi terapeutici perché poi non lavoriamo mai solo in un settore o con una metodica specifica. Abbiamo sempre un'integrazione che possa essere terapia manuale, terapia fisica quindi con i macchinari, terapia di movimento, abbiamo l'idrochinesi, quindi ci aiuta molto a iniziare il movimento per poi poterlo trasferire nella palestra riabilitativa. Quindi è l'integrazione di tutte queste pratiche che poi portano al benessere della persona. Ecco, spieghiamo anche questo percorso perché è molto interessante Francesco. Quando capita a un problema fisico di una certa entità ci sono delle difficoltà a rimettersi in moto. Partendo dall'acqua, quindi dalla piscina, c'è invece la possibilità di cominciare a fare i primi movimenti, quelli che ti fanno uscire proprio dall'impasse. Sì, perché comunque l'idrochinesi ci permette di lavorare in acqua che è un ambiente che ha pochissima gravità. La legge di Archimede ci aiuta ad effettuare i movimenti. Noi poi abbiamo una piscina prettamente riabilitativa, quindi con una vasca a 34 gradi che aiuta il rilassamento muscolare, è una temperatura molto simile a quella corporea, quindi la persona è a suo agio, soprattutto non sente freddo perché poi il freddo andrebbe ad arrigidire le strutture muscolari che dobbiamo far lavorare. Quindi comunque le persone iniziano un percorso dall'acqua proprio perché si rendono conto di poter fare quei determinati movimenti che sulla terraferma hanno difficoltà a fare, quindi anche da un punto di vista psicologico è una ripresa del movimento, di quei movimenti che io non riuscivo a fare, quindi c'è la testimonianza che quei movimenti si possono fare e poi si possono trasferire fuori dall'acqua. Esatto, arriva il momento poi in cui si esce dall'acqua e si comincia un percorso, la seconda fase del percorso, quindi quella proprio della riabilitazione. Sì, poi una volta ridotto il dolore con le terapie fisiche o le terapie manuali, ripreso il movimento con l'idrochinesi, ci si trasferisce poi nella palestra riabilitativa per completare il percorso e soprattutto per evitare possibili recidive e di insegnare alla persona come potersi gestire nella normale vita quotidiana. E questo è nel caso, chiamiamolo, dell'incidente della necessità di una persona che incorre in qualche problema e quindi ha bisogno di ripartire, ma il fisioterapista oggi come oggi appartiene sempre anche ai team dei grandi sportivi. I grandi sportivi hanno il fisioterapista perché sanno perfettamente che dopo il grande sforzo e magari per riprendersi prima di quello successivo c'è bisogno di loro. Sì, c'è necessità di fare attività post-traumatica, ma anche attività di prevenzione, perché la prevenzione, dice la parola stessa, previene eventuali infortuni, poi soprattutto negli sportivi, eventuali problematiche che poi interromperebbero l'attività sportiva, soprattutto poi negli sportivi di alto livello, si ha anche una conseguenza nel team, nella squadra e nella prestazione. Sì, soprattutto noi seguiamo da vicino con grande passione il tennis. I tennisti, quelli veramente di altissimo livello, cambiano il loro modo di giocare in funzione dell'intervento meno di un fisioterapista piuttosto che di un altro. Sì, assolutamente, perché poi ogni fisioterapista ha il suo bagaglio culturale e poi comunque tutto quello che noi conosciamo lo dobbiamo adattare alla persona che abbiamo tra le nostre mani, perché la nostra conoscenza poi deve essere adattata alla persona. Ogni persona è diversa, ogni persona risponde in maniera diversa e quindi noi ci dobbiamo adattare alla persona che abbiamo di fronte. E per adattarsi si deve fare un percorso culturale, personale, molto importante, aggiornarsi, studiare, essere sempre pronti, essere sul pezzo. Tu, per esempio, adesso ti stai occupando anche di osteopatia. Che cos'è l'osteopatia? Tentiamo di capirlo, proprio di rendere facile questo concetto. Quando si dice vado dall'osteopata, non riesco neanche a dirlo. Cosa vuol dire? Allora, l'osteopatia è una disciplina che si occupa di problematiche non solo muscoloscheletriche, ma anche viscerali. È un'integrazione all'attività che noi svolgiamo quotidianamente. Dopo, ovviamente, una visita specialistica che va ad escludere patologie importanti o fratture, queste cose che purtroppo non ci permettono di lavorare quando sono in fase acuta. L'osteopatia va a risolvere determinate disfunzioni integrate alla fisioterapia o alla terapia fisica. Si parla anche tanto di fisioterapia posturale, perché la nostra percezione dello spazio, il modo con cui ci poniamo nello spazio, con cui ci appoggiamo sulle nostre articolazioni, fa la differenza. Assolutamente. Poi io mi occupo personalmente di riabilitazione posturale, sono specializzato nella riabilitazione posturale e quella, ecco, riallacciandoci al discorso di prevenzione, quella è una di quelle attività che si dovrebbe fare sempre, sia in post acuto che anche come attività di prevenzione. Quella è una di quelle attività che ogni persona dovrebbe fare una volta a settimana, ogni due o in base poi alle necessità, però sempre. Chiaramente partendo da dei principi e dai concetti che sono importantissimi, avere un giusto portamento fisico porta anche ad avere tanti meno problemi di salute, per esempio articolari alle spalle, a tutte queste cose. Se uno sta troppo gobbo sul computer, come si dice, prima o poi qualche problema arriva. Assolutamente. Purtroppo l'attività lavorativa è nella maggior parte dei casi quella che crea maggior problematiche. Chi sta troppo seduto, chi sta troppo in piedi, il troppo sta male da tutte le parti. Quindi un'attività di riabilitazione posturale abbinata poi sempre a un'attività fisica, perché dopo, come dicevamo prima, l'abbinamento delle cose è quello che fa ottenere il maggior risultato e la scelta ideale. Anche perché poi, lo dicevi prima, ogni persona è singolare, ognuno di noi risponde a modo proprio. E anche per questo credo che si crei, soprattutto col fisioterapista che magari si incontra per un periodo abbastanza prolungato, si fanno insieme a lui tanti piccoli progressi, si crea un vero e proprio rapporto. Quindi in realtà credo che ci sia anche una forte propensione anche, non dico alla psicologia, ma sicuramente alla comprensione e alla tolleranza dell'altro. Assolutamente. Sì, poi noi in questi ultimi anni abbiamo investito molto sulla comunicazione, sulla gestione della persona, quindi abbiamo fatto anche dei lavori molto introspettivi per poter capire come gestire noi stessi e poi poterlo trasferire alle persone che abbiamo di fronte e che si affidano a noi. Su questo lavoriamo veramente molto quotidianamente e poi ogni qualvolta abbiamo l'occasione ci riuniamo tra di noi per poi poter confrontarci sulla gestione delle persone. Fondamentale questo confronto e peraltro appunto tu ne sei un pochino responsabile da qualche mese, quindi è davvero fondamentale. Francesco, tu hai una vicenda personale tua, tu sei di origine abruzzese, non sei in realtà marchigiano, sei arrivato qui nelle Marche, parti da Giulianova, bellissima città, la prima si può dire la prima città, tra le prime passate il confine fra Marche e Abruzzo, si mangiano delle rosticine stupende, è vero, Giulianova nei dintorni verso Teramo, poi sei passato però anche dall'Aquila, quando studiavi, tu hai studiato all'Aquila e nel 2009 eri all'Aquila, eri all'Aquila nell'aprile del 2009 quando è avvenuto l'evento drammatico del terremoto che peraltro ci è stato ricordato già in una delle puntate precedenti dal dottor Calpona, pensa che ha avuto una onorificenza nazionale per il suo intervento nell'emergenza, tu hai vissuto questo dramma in maniera molto molto intensa, perché in realtà per un motivo o per l'altro ti sei ritrovato, diciamolo proprio senza mezzi termini, sotto le macerie. Allora, io ho avuto la sfortuna di ritrovarmi sotto le macerie, ma il privilegio poi di essere estratto vivo, quindi è stata un'esperienza abbastanza dura, importante, i miei amici purtroppo, noi eravamo in cinque in quell'appartamento e purtroppo solo in due siamo stati estratti vivi, è stata un'esperienza particolare, diciamo c'è di peggio assolutamente perché poi ci sono ecco persone che purtroppo non ci sono più, ci sono persone che hanno visto, hanno vissuto la mia situazione che però purtroppo non hanno visto la luce, quindi forse è ancora peggio, diciamolo in termini molto molto crudi del morire nell'immediato e quindi è stata un'esperienza diciamo particolare che ti fa capire quello che molte volte si dice così in un attimo finisce tutto, purtroppo è vero, una casa crolla immediatamente, non ti dà tempo di fare nulla, non ti rendi conto quasi di niente, quindi è stata un'esperienza particolare, mettiamola così. Però poi diciamo che nel tempo, se non nell'immediato, magari ci vuole un po' di tempo, ti rendi anche conto che questa esperienza ti ha cambiato la vita, ti ha dato dei valori che forse prima c'erano ma magari non erano così visibili perché quando si passa attraverso questi momenti cambia tutto, chiaramente si apprezza ogni secondo della propria esistenza. Assolutamente, diciamo che io adesso molte volte ci penso come potesse essere la mia vita se non ci fosse stato quell'evento e quell'evento fa parte della mia vita, del mio bagaglio di esperienze. Se sono quello che sono adesso, forse molto probabilmente è dovuto anche a quell'evento, seppur drammatico, ma comunque a quell'evento. Apprezzi? Sì, apprezzi di più la vita, ma dico la sincera verità, a volte capita, che è capitato, non capita, che ti poni delle domande, soprattutto agli inizi, pensi che è molto dura poter gestire la cosa. Tu la prima cosa che ti chiedi, dici ok, perché io sono vivo e i miei amici no? Però dopo ti cominci a chiedere perché loro sono morti e io no? È una visione molto molto diversa. E poi dopo con il tempo cominci un attimino a metabolizzare la cosa, poi anche con l'aiuto delle persone che ti sono intorno, anche di professionisti come gli psicologi, piano piano cominci a non a superare, però a convivere con quello che è successo. Sì, perché poi la cosa più importante è sempre la convivenza, l'accettazione. Purtroppo sono situazioni drammatiche che davvero ti cambiano la vita in una frazione di secondo, ma se poi vanno in un certo modo si accettano e fanno parte del nostro bagaglio. Peraltro un bagaglio che ti ha portato qui a Pesaro, a Fisioradi, in questo centro accogliente da tutti i punti di vista, nel quale tu peraltro hai anche fatto qualcosa in più che solo il fisioterapista, perché sei padre e c'è parecchio che nasce da qua dentro. Sì, sì, nasce tutto da qui dentro, in realtà c'è stato, chiamiamolo un colpo di fulmine che poi è sbocciato un anno, circa un anno e mezzo fa, con un bimbo che è una meraviglia, che poi è la mascotte di Fisioradi, perché ogni volta che viene qui dentro passa nelle braccia di tutti e porta allegria dappertutto, quindi è oltre alla grandissima esperienza del potermi trasferire qui e di avere la fortuna e il privilegio di poter collaborare in una struttura, in un'azienda come questa, c'è anche questo che mi incentiva ancora di più. Pensate che bella cosa, che piccola bella storia, che piccola favola, che nasce appunto magari da un qualcosa di difficile, superato, affrontato e oggi questa bellissima storia. Fisioradi Medical Center, ormai sono due anni e mezzo che esiste qui nel quartiere di Wismara, c'è stata un'evoluzione, tu hai vissuto anche la fase precedente, sicuramente sei una persona perfettamente indicata per dire quanto sia cresciuta e quanto comunque anche proprio l'innovazione sia alla base della sua possibilità di aiutare le persone. Sì, allora il passaggio è stato veramente grandissimo, il passo è stato veramente, veramente lungo. Siamo passati da 300 metri quadri a 1200, tutta la diagnostica, la sala operatoria, i nuovi spazi. Maurizio da questo punto di vista è un visionario, era il suo sogno, è riuscito a realizzarlo, ha creato una grandissima opportunità per la città e ha creato anche una grandissima opportunità per noi che collaboriamo con lui. È stato un grosso, grosso passaggio, un grosso investimento, sia da un punto di vista strettamente economico ma anche poi esistenziale umano. Quando siamo entrati qui è stata una cosa molto particolare perché alla fine passavamo appunto da un centro molto più piccolo dove c'erano pochi ambienti, poi c'era anche poca luce naturale, non era qualcosa di predisposto per essere un centro di riabilitazione. Quando siamo entrati qui abbiamo vissuto proprio un altro mondo e ce lo confermano tutte le persone che vengono da noi che si complimentano al di là del lavoro che facciamo, si complimentano per la struttura come è strutturata e come è gestita. E in più dopo c'è stato un lavoro come dicevamo prima molto importante sulla comunicazione, sul coaching, sul team building che è una cosa fondamentale per far andare avanti un'azienda come questa. E considerate che come ci ha spiegato proprio Maurizio Radi nella prima puntata si punta sempre a migliorare quindi sarà cambiata anche l'accoglienza alle persone, la sala d'aspetto sempre con l'obiettivo di essere davvero più predisposti al fatto che le persone che entrano qui dentro trovino delle soluzioni. Francesco grazie. Grazie a te. Grazie, è stato interessantissimo parlare con te, la fisioterapia è una pratica affascinante e davvero ve lo dico dal profondo del cuore con grandissima sincerità serve tantissimo. È una cosa che se si riesce a capire quanto sia importante ti cambia la predisposizione fisica. Grazie Francesco. Grazie a te. E grazie a voi per averti seguiti. Appuntamento alla settimana prossima. Grazie a te.